Domanda. Vi sono vari concetti di Dio nel mondo di oggi. Qual è il suo pensiero riguardo a Dio? Krishnamurti. Prima di tutto dobbiamo scoprire cos'è che noi intendiamo per concetto. Che cosa intendiamo per processo del pensiero? Perché, dopo tutto, quando formuliamo un concetto, diciamo di Dio, la nostra formula o concetto deve essere il risultato dei nostri condizionamenti. Non è così? Se crediamo in Dio, indubbiamente il nostro credo è il risultato dell'ambiente che ci circonda. Vi sono coloro che vengono educati a negare Dio sin dall'infanzia e coloro che vengono educati a credere in Dio, come per la maggior parte di voi. Dunque, noi formuliamo un concetto di Dio a seconda della nostra educazione, delle nostre esperienze passate, delle nostre avversioni, di quello che ci piace o non ci piace, delle nostre speranze e paure. Ovviamente, dunque, fino a quando non comprendiamo il meccanismo del nostro stesso pensiero, i meri concetti di Dio non hanno nessun valore. Non è così? Perché il pensiero può proiettare quello che vuole. Può creare e negare Dio. Ognuno di noi può inventare o distruggere Dio in base alle proprie inclinazioni, ai propri piaceri e dolori. Quindi, fin tanto che il pensiero rimane attivo, inventando, formulando, non potremo mai scoprire ciò che è al di là del tempo. Dio, Dio o il reale, può essere scoperto solo quando il pensiero giunge alla fine. Adesso, quando lei mi chiede, qual è il suo pensiero riguardo a Dio? Lei ha già formulato un suo proprio pensiero, non è vero? Il pensiero può creare Dio e fare esperienza di ciò che esso stesso ha creato. Ma certamente questa non è vera esperienza. Il pensiero sta sperimentando soltanto la propria proiezione, dunque non è reale. Ma se lei e io possiamo vedere la verità di tutto ciò, allora forse avremo esperienza di un qualcosa molto più grande che non una mera proiezione del pensiero. Al giorno d'oggi, mentre all'esterno vi è una sempre maggiore insicurezza, cresce ovviamente un intenso desiderio di sicurezza interiore. Dal momento che fuori non possiamo trovare sicurezza, la cerchiamo in un'idea, nel pensiero, e così creiamo ciò che chiamiamo Dio. E quel concetto diventa la nostra sicurezza. Adesso, una mente che cerca la sicurezza certamente non può trovare ciò che è reale. Vero? Per capire quello che è al di là del tempo, il pensiero deve porre fine alle proprie invenzioni. Il pensiero non può esistere senza le parole, i simboli e le immagini. Soltanto quando la mente è quieta, affrancata dalle sue stesse creazioni, vi è una possibilità di scoprire ciò che è reale. Quindi, il semplice chiedere se vi sia o no Dio è una risposta immatura al problema. Non è così? Formulare opinioni su Dio è davvero infantile. Per avere esperienza, per capire ciò che è al di là del tempo, dobbiamo ovviamente capire il processo del tempo. La mente è il risultato del tempo, è basata sui ricordi di ieri, ed è possibile liberarsi da quella moltiplicazione di ieri che costituisce il processo del tempo? Questo è certamente un problema molto serio. Non è questione di credere o non credere. Il credere o non credere sono processi dell'ignoranza, mentre la comprensione della qualità vincolante del tempo nel pensiero porta a quella libertà soltanto nella quale la scoperta è possibile. Ma la maggior parte di noi vuole credere solo perché è più comodo, ci dà un senso di sicurezza, un senso di appartenenza a un gruppo. Indubbiamente questa convinzione ci separa. Voi credete in una cosa e io in un'altra. Così le credenze agiscono da barriera. È un processo di disintegrazione. Quello che è quindi importante non è credere o non credere, ma comprendere il processo della mente. E la mente è il pensiero che crea il tempo. Il pensiero è tempo e qualsiasi cosa progettata dal pensiero deve appartenere al tempo. Per tale ragione il pensiero non ha alcuna possibilità di andare oltre se stesso. Per scoprire quello che è al di là del tempo, il pensiero deve giungere alla fine e questa è una cosa estremamente difficile perché la fine del pensiero non giunge attraverso una disciplina né attraverso il controllo o il diniego o la repressione. Il pensiero finisce solo quando comprendiamo l'intero processo del pensare e per comprenderlo è necessaria la conoscenza di sé. Il pensiero è il sé è la parola che identifica se stesso come il me e qualunque sia il livello basso o alto in cui è posto il sé si troverà sempre nell'ambito del pensiero. Per trovare Dio ciò che è oltre il tempo dobbiamo comprendere il meccanismo del pensiero vale a dire il processo di se stessi. Il sé è molto complesso non si trova a un livello qualunque ma è costituito da molti pensieri molte entità ognuna in contraddizione con le altre. È necessaria una costante consapevolezza di tutto una consapevolezza senza scelta né condanna o paragoni. Ciò significa che vi deve essere la capacità di vedere le cose così come sono senza distorcerle o interpretarle. Nel momento in cui giudichiamo o traduciamo ciò che abbiamo visto lo distorciamo in base alle nostre esperienze precedenti. Per scoprire la realtà o Dio non dobbiamo avere credenze perché l'accettazione o il diniego sono barriere che poniamo alla scoperta. Noi tutti vogliamo essere sicuri sia esteriormente sia interiormente ma la mente deve capire che la ricerca della sicurezza è un'illusione è soltanto la mente completamente libera da ogni forma di possesso quella che può scoprire e questo è un arduo compito. Non significa che bisogna ritrarsi nei boschi o in un monastero o isolarsi in qualche credo particolare. Al contrario nell'isolamento non può esistere nulla. Esistere è porsi in relazione. È soltanto nelle relazioni che possiamo spontaneamente scoprire noi stessi così come siamo. È proprio questa scoperta di noi stessi come veramente siamo senza alcun senso di condanna o giustificazione che porta a una fondamentale trasformazione in ciò che siamo. Questo è l'inizio della saggezza. Domanda La funzione della mente è pensare. Ho passato molti anni pensando a quelle cose che noi tutti sappiamo affari, scienza, filosofia, psicologia, arte e via dicendo. E adesso penso molto a Dio. Studiando le testimonianze di un grande numero di mistici e di altri scrittori religiosi mi sono convinto dell'esistenza di Dio e posso dare a riguardo il contributo del mio pensiero. Cosa c'è di sbagliato in questo? Il pensare a Dio non aiuta a portare alla sua realizzazione? Krishnamurti Può pensare a Dio? Può essere convinto dell'esistenza di Dio perché ha letto tutte le testimonianze? Anche l'ateo ha le sue testimonianze. Probabilmente l'ateo ha studiato tanto quanto lei e dice che Dio non esiste. Lei crede che vi sia Dio e lui crede il contrario. Entrambi avete le vostre convinzioni. Entrambi avete passato del tempo pensando a Dio. Ma prima di pensare a qualcosa che non conoscete dovete scoprire cosa sia il pensare. Non è vero? Come potete pensare a qualcosa che non conoscete? Potete aver letto la Bibbia la Bhagavad Gita o altri libri in cui vari studiosi eruditi hanno abilmente descritto cosa è Dio asserendo una cosa e smentendone un'altra. ma fin tanto che non conoscete i meccanismi del vostro stesso pensiero qualsiasi cosa pensiate di Dio potrebbe essere stupida e meschina e generalmente lo è. Potete accumulare una grande quantità di prove sull'esistenza di Dio e scrivere articoli davvero intelligenti sul tema. ma sicuramente la prima domanda sarà come sapete che ciò che pensate è vero? Può il pensare portare all'esperienza di ciò che è inconoscibile? E il che non significa che voi dobbiate accettare emotivamente o sentimentalmente delle sciocchezze su Dio. Quindi non sarebbe importante scoprire se la vostra mente è condizionata piuttosto che cercare ciò che è non condizionato? Quindi non sarebbe importante scoprire se la vostra mente è condizionata e cercare ciò che non è condizionato? Certamente se la vostra mente è condizionata e lo è. Per quanto possa indagare la realtà di Dio potrà solo mettere insieme conoscenze o informazioni a seconda del proprio condizionamento. Perciò il vostro pensare a Dio è una completa perdita di tempo, un congetturare senza valore. È come il mio stare seduto in questo boschetto desiderando di essere sulla cima di quella montagna alle mie spalle. Se voglio davvero scoprire cosa c'è sulla cima della montagna e oltre, devo scalarla. Starmene seduto qui a fare ipotesi, costruire templi, chiese ed emozionarmi a proposito di tutto ciò non serve a niente. Quello che devo fare è alzarmi, camminare, lottare, sforzarmi, arrivare lì e scoprire. Ma poiché la maggior parte di noi non vuole farlo, ci accontentiamo di starcene qui seduti, facendo congetture su qualcosa che non conosciamo. E io dico che questo congetturare è un ostacolo, un deterioramento della mente, non ha assolutamente alcun valore, conduce soltanto l'uomo a una maggior confusione, a una maggior sofferenza. Dio è qualcosa di cui non si può parlare, che non può essere tradotto in parole, perché deve rimanere per sempre il non conosciuto. nel momento in cui il processo di riconoscimento ha inizio, siete ritornati nell'ambito della memoria. Avete capito? Diciamo, per esempio, che voi avete un'esperienza momentanea di qualcosa di straordinario. In quel preciso istante non vi è nessuno che pensa. Devo ricordarmi di questo. Vi è soltanto lo stato in cui si sperimenta. Ma non appena quel momento passa, il processo di riconoscimento si manifesta. Vi prego di seguirmi. La mente dice ho avuto un'esperienza meravigliosa e vorrei che si ripetesse. E così comincia la lotta per avere di più. L'istinto di acquisizione, il perseguimento del possesso, dell'ottenere di più, si manifesta per vari motivi. Perché vi procura piacere, prestigio, sapere. Perché vi fa diventare un'autorità e tutte le altre sciocchezze del genere. La mente persegue ciò di cui ha avuto esperienza, ma ciò di cui ha avuto esperienza è già passato, morto, andato. Per scoprire ciò che è, la mente deve morire a ciò di cui ha avuto esperienza. Non si tratta di qualcosa che può essere nutrito giorno per giorno, messo insieme, accumulato, trattenuto, per poi parlarne e scriverci sopra. Tutto quello che possiamo fare è vedere che la mente è condizionata e comprendere il meccanismo del nostro stesso pensare attraverso la consapevolezza di sé. Devo conoscere me stesso non come mi piacerebbe essere idealmente ma come sono realmente per quanto brutto o bello per quanto geloso invidioso e avido ma è molto difficile vedere quello che siamo senza provare il desiderio di cambiare e lo stesso desiderio di cambiamento è un'altra forma di condizionamento ed è così che procediamo andando da un condizionamento a un altro senza mai fare esperienza di qualcosa che sia al di là di ciò che è limitato ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita metti mi piace e iscriviti al canale Doeia per ascoltare altri contenuti simili ci vediamo al prossimo video